Si sta avvicinando il Natale e le tradizioni vanno rispettate anche a tavola. Ogni regione italiana ha i suoi piatti tipici delle feste natalizie. Qual è il menù tradizionale della tua regione? Io oggi ti voglio proporre un primo piatto tradizionale delle Marche, più precisamente di Urbino. Ciao! Bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, Executive Chef e tuo personale aiuto per realizzare piatti speciali. Oggi voglio svelarti la ricetta dei cappelletti come li facciamo a Urbino, con il ripieno di carne. E lo hai capito che questo fantastico segreto te lo sto offrendo completamente gratis? Ora, se anche tu vuoi farmi un bel regalo di Natale, pollice in su, condividi con i tuoi amici e iscrizione al canale con tanto di campanellina. E visto che ci sei, fai anche un giro su Instagram, ArgentoChef, e seguimi pure lì. I cappelletti sono un piatto natalizzo d'obbligo in tutta la Romagna e nella provincia di Pesero Urbino. Esistono differenti ricette tradizionali, ma tutte concordano sulla cottura in brodo. Quella che ti voglio insegnare oggi è appunto quella dei cappelletti della provincia di Pesero Urbino, che prevede un ripieno con tre diversi tipi di carni, il maiale, il vitello e il tacchino. La prima traccia scritta, certa, è quella della ricetta rezzana che risale attorno al 1200, in uso forse anche presso i Lombardi Gonzaga, nella quale si prevedeva l'uso della carne di manzo o vitello, e non di maiale come oggigiorno. Tritto di rosmarino ed aglio, burro, cipolla, l'equila valente dell'epoca del parmigiano rezzano, farina e uova. Oggi invece la tradizione ci impone di farla così. Per la pasta, farina 00, 500 g, uova 5. Per il ripieno, 200 g di carne di maiale, 150 g di vitello o manzo, 50 g di tacchino, 100 g di parmigiano grattugiato, noce moscata, limone grattugiato, uova, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Taglia la carne a cubetti abbastanza grandi e mettila a cuocere a fuoco moderato con un figlio di olio extravergine. Sale e pepe. Con farina e uova, fai una pasta non molto tosta e mettila a riposare coperta. Una volta colta la carne, tritala. Fai un secondo passaggio al trittacarne e condiscila con noce moscata, scorza di limone, stai attento a non mettere il bianco, il parmigiano e le uova. Mescola bene. Deve diventare un impasto compatto, né duro né morbido. Tira fuori la sfoglia e comincia a stenderla piuttosto sottile. Taglia la scacchettini, al centro metti il ripieno di carni e chiudi congiungendo i due angoli opposti tra di loro. Poi prendi le estremità più lunghe del triangolo formatosi e avvicinali sovrapponendoli leggermente. Fai una leggera pressione per attaccarli e continua con il prossimo. Ti ricordo inoltre che il brodo deve essere rigorosamente di carne e l'alesso, così viene chiamato l'alesso in dialetto ruinata, accompagna la portata in tavola. Niente di più buono che un bel piatto di cappelletti in brodo da mangiare in famiglia riscaldati dal clima natalizio. E poi dimmi, senza cappelletti, che Natale sarebbe? Fammi sapere nei commenti qui sotto se li hai realizzati e come ti sono venuti. Mandami anche le tue foto nella chat di Instagram, così che le posso pubblicare nella community del canale. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!